Tra i lavori di riqualificazione previsti dall'amministrazione comunale c'è anche quello dell'assistimazione di piazza 4 Novembre. Sì, abbiamo fatto il progetto esecutivo già di una riqualificazione, un ammodernamento di piazza 4 Novembre che riguarda l'ottagono delle piante dove faremo un pavimento in marmo, faremo una fontana qui al centro da 6x6 con dei giochi d'acqua, rialzeremo tutte queste aiuole intorno alle piante di una cinquantina di centimetri così fa da seduta da panchina in modo che cerchiamo di evitare che facciano solamente da pattumiera, rimetteremo dei prati al centro e via. La gara dovrebbe partire lunedì quindi io penso che per Natale riusciamo già ad avere l'opera finita. Almeno questo è l'augurio che noi ci facciamo, insomma tutta l'amministrazione. Ecco, è prevista anche una spesa più o meno identificata o siamo ancora nella fase progettuale? No, no, già abbiamo individuato la spesa, la spesa è di circa 100.000 euro per fare tutti i lavori della piazza. Già è individuato perché abbiamo già preparato tutti il computometrico e lunedì, come ho detto prima, parte la gara già per affidare i lavori. Ultima curiosità, in passato si è parlato di riaprire un pezzo al traffico, questa ipotesi invece è stata esclusa definitivamente? Sì, per il momento sì perché abbiamo fatto solamente parte della piazza, poi dopo proseguirà il progetto ed è prevista anche la riapertura della piazza. Per il momento no, solamente una riqualificazione della zona centrale della piazza.